con for honor 1v1 senza pietà eccoci qui nella schermata principale scegliamo la nostra guerra fondaia e poi dopo varieremo un po con i personaggi spero che l'intro sia partita bene perché ho visto un ritardo nel avviarsi della diretta non so cosa sia dovuto forse la connessione vabbè cose che capitano insomma siamo già qui in gioco ovviamente meglio di tre come al solito e vediamo vediamo che tipo di avversario abbiamo contro a sto giro ho intenzione di usare anche altri personaggi appunto non solo guerra fondaia allora ha un approccio molto aggressivo devo dire è uno che ci sa fare se è il momento giusto per attaccare però se riesco a schivarli in tempo i colpi maledetto questo non me lo aspetta ah mannaggia sfortuna eh io ti tiro un coniglio eh avanti avanti fantastico fantastico via 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 secondo round secondo round andiamo un po' ma andrà a finire a suo giro aio però calmati eh no la mia stamina stava diminuendo non so perché no me la sto giocando benissimo sappiatela eh basta così è di nuovo esecuzione per me bella lì ma signore ma con chiavetà che fare ma con chiavetà che fare via 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 vittoria ancora stavolta no no vieni vieni fatti sotto fatela sotto vanni un po' tu terzo round comincio benissimo questa uno contro uno sta meglio di tre No Mi ha fatto una parata incredibile Ma dico Fatti da parte zio Fatti da parte Era da un po' che non portavo For Honor Avevo paura che Avessi perso Alcune abilità Invece no Non è accaduto E vabbè Ci sta anche cambiare un po' Sappiatelo Stare sempre sul solito gioco annoia me Ma credo anche Anche chi guarda i video Troviamo un nuovo avversario Arrivati a questo punto E usiamo il guardiano Perché Mi piace Penso di potenziare anche un po' Di più lui Comunque per i più attenti di voi Avrete notato che la mia guerra fondai Aveva l'elmo di Apollyon Però vabbè Adesso utilizziamo il guardiano Tanto Abbiamo contro uno Shinobi Dovrebbe essere uno Shinobi Sì Ehm Vabbè E' un samurai A me i samurai non è che piacciano particolarmente Però Ehm Non dobbiamo mica usarlo Dobbiamo sconfiggerlo Che la forza sia con me Speriamo che sia un degno avversario Come al solito Primo round Ah campo da battaglia Va bene La conosco sta mappa Beh ormai tutte le conosco Un primo colpo Glielo assegniamo noi Anche il secondo Il terzo Il quarto Il quinto Attenzione Una furia Una furia Non si ferma Non si ferma Lo uccide Lo uccide signori Incredibile Neanche il tempo di muoversi Capire cosa fosse successo E' morto E' morto Non ce l'ha fatta E tutti quanti Acclamarono lui L'eroe Secondo round Ok adesso basta però Se no Ah Tommy Gratto pure Lasciamo perdere che cosa Avanti Avanti Aspetto che mi colpisci tu E poi ti contrattacco Ah no Gli ho fatto la finta Gli ho fatto la finta E l'ho ucciso GG per me Guarda come maneggio la spada Un maestro Nelle arti magiche Cosa c'è di magico Quindi una spada Poi me lo dovrete dire voi Ma Avanti Avanti Boom Ho sentito dire uno E questo sarebbe uno scontro Non ci credo neanche gli NPC Guarda Non è uno scontro È una vittoria Assicurata Ve lo dico io Vieni Vieni Avanti No Oh però sta diventando aggressivo Eh signore L'abbiamo ucciso per un soffio a sto giro Però l'abbiamo ucciso E niente Quando uno ha la skills Si può fare poco Comunque Lo scudo da creeper Vabbè Non dico altro È un po' Trash Simpatico ma trash Ecco Detto ciò Aspettiamo la nuova partita Bene Nessun commento Nulla da comunicare Statistiche Modalità di gioco Modificatori con un simbolo Qua Non so cosa voglia dire Ah ma non abbiamo preso gli ordini Signori Come facciamo Ah ce l'avevamo ancora Quelli vecchi Di settimane fa Cos'è completato Ah questi sono quelli vecchi Non ci trova il giocatore Non è un bene Perché se non ci sono giocatori attivi Il gioco guadagna poco Aggiorna di meno E poi va in malora E poi soprattutto I giocatori che vogliono Una partita Vogliono trovare una partita come me Devono aspettare di più Comunque un minuto Per un matchmaking Di una persona Vabbè Sempre comunque più veloce Di quelli di GTA Anche se su GTA Devi cercare più giocatori Perché non ha il nome No è un bot Un bot Ma così vinco sicuro Ma perché i bot Ma perché Beh allora visto che è un bot Utilizzo lui Che non so manco come si usa Razziatore chi lo conosce Chi l'ha mai usato Tranne nella storia Tanto un bot Voglio dire Approfittiamone Siamo il razziatore Porta un personaggio diverso E E vediamo Meno così è un po' più interessante La sfida anche per me Non conosco il moveset O comunque non me lo ricordo più Primo round Anche lui un vichingo eh Eh non so il moveset Quindi Non venite a rompermi Dicendo Eh ma quello lo potevi parare L'ho fatto apposta Perché Essendo un bot Almeno Ho modo di imparare Un bot Un po' incazzato Ah ok Dunque se faccio così Niente Se faccio così Niente Va bene Cerchiamo di capire Come usare il vichingo Ah va bene Ho capito Una cosa l'avevo capita però eh Allora Cerchiamo di Concatenarli un po' di attacchi Per poco Siamo morti per poco Non vi aspettate nulla eh Cosa fa? Ma si è tirato una testata Sullo scudo da solo Ah 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 Sì Ah 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 Secondo rao Yam Vieni Eh niente Non mi ci trovo proprio Col Col vichingo qui Non mi ci trovo Non so L'ho usato una volta Ma quando ho comprato il gioco Quindi Diversi mesi fa Speravo che i bot Fossero un po' più stupidi Per imparare il moveset Ma a quanto pare Sono Sono abbastanza schillati Cioè questo l'avrei Sarebbe stato un 3 a 0 Con I cavalieri Eh ve lo dico Solo che non sapendo usare Il personaggio Non riesco a mettere a segno Molte mostre A parte che mi toglie vita Anche quando paro i colpi E questo non lo capisco Ah Bene Ho capito Va bene Praticamente Se voi premete due volte Lo spezza guardia Lo Ve lo portate appresso Ci sta Lo sollevate proprio da terra Una vittoria che Vabbè L'abbiamo buttato giù È Un po' brutta Come vittoria Ce lo portiamo dietro E poi via E non ha funzionato Perché Eh vabbè Ma Orenhaumi Non Non lo fa in così poco tempo Dai Niente Vabbè Comunque Si è conclusa qui La nostra meglio di 3 Con Due vittorie Epiche Dal mio punto di vista Abbiamo Fatto le giocate Incredibili E poi vabbè Questa si è conclusa Un po' così Alla buona Ma d'altronde Era un bot Io avevo un personaggio Che manco Come caspita Funziona Quindi Se funziona Soprattutto Anche perché Non lo vedo Molto usare In giro Mi preoccupa La cosa che Non mi abbia trovato Un giocatore Uno Vabbè Detto ciò Noi ci possiamo salutare qui Spero che questo video Mi sia piaciuto E ci becchiamo Alla prossima Spaccate tutto Ragazzi Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti